Accordo tra l'ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e la stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, finalizzato lo sviluppo di attività di comune interesse per la ricerca sulla biodiversità marina, il stretto legame con lo studio dell'evoluzione della dinamica degli ecosistemi attraverso un approccio integrato e interdisciplinare, studi e ricerche volti alla tutela dell'ambiente e al miglioramento della qualità della vita, la promozione e divulgazione della cultura scientifica e la conoscenza dell'ambiente marino, nonché la salvaguardia della specie marina caretta caretta, espressione di bellezza e di qualità delle acque del Cilento. Sì, noi abbiamo fatto questo bello accordo con la stazione Anton Dorn, soprattutto per quanto riguarda il tema della tartaruga. La tartaruga è un simbolo per il nostro parco e noi abbiamo la fortuna di avere il maggior numero di nitificazioni di tartaruga caretta caretta in assoluto proprio nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, negli Alburni. Devo dire che i ragazzi e i scienziati dell'Anton Dorn svolgono già da anni un lavoro importante e virtuoso. Noi vogliamo rafforzare questo lavoro, lo vogliamo rendere ancora più efficace, vogliamo rendere ancora la campagna, anche qui, di sensibilizzazione più forte, perché molte volte purtroppo questi niti rischiano di essere distrutti perché le tartarughe nitificano sulle nostre spiagge, quindi mettere in campo anche un'azione di controllo dell'attività delle nitificazioni, ma anche un'attività scientifica, quindi promuovere sempre di più le attività scientifiche legate alle tartarughe caretta caretta. Quindi la tartaruga è un'espressione della pulizia del nostro mare, la tartaruga chiaramente è anche un'espressione della bellezza di un paesaggio, di un territorio e noi oggi attraverso questo accordo che abbiamo messo in campo vogliamo rafforzare la sinergia con chi oggi ha le caratteristiche, le qualità e le competenze soprattutto per poter agire in modo corretto attraverso una campagna da una parte di sensibilizzazione e dall'altra parte, come già ripeto è successo, nel seguire tutto il percorso della nitificazione e soprattutto chiaramente poi della nascita delle nostre tartarughe caretta caretta.